La libertà non è qualcosa di cui ci si accorge quando la si ha, è come l'aria. La libertà che è l'essenza dell'uomo, l'essenza della nostra mente, del nostro cuore, la nostra capacità di amare, la nostra capacità di creare. Difendere la libertà è anche la missione più alta, più nobile di cui qualcuno si possa caricare. Dio ha creato l'uomo e l'ha voluto assolutamente libero. Dio ha creato l'uomo e l'uomo e l'uomo. Dio ha creato l'uomo e l'uomo. Dio ha creato l'uomo e l'uomo. Dio ha creato l'uomo. Dio ha creato l'uomo.